Il piano è semplice. Quattro centri di smistamento a distanza quasi uguale l'uno dall'altro. Pariolo, state zitto, se no me ne ho la faccia tua. Ho vogliono no, su Gantt Hande. Come va? Dottora Campo, quest'anno andrà tutto liscio. Le abbiamo chiesto di finanziare la giuria, perché non possiamo rischiare la figuraccia dell'anno scorso. Ci sono elementi pesanti a vostro carico. Ci potrebbe essere una via d'uscita. Al napoletano interessano sulle esorda. Deve essere uno che è meno forte, lei. Vero? Questo lo faccio dire agli altri. Forse abbiamo un problema per il nostro cantante. Ma poi chi cazzo è il Sostruzze Baudro? È il vecchio capo della banda della Migliara. Quello che poi si è venduto a quelli dell'Alpia. Questa è un video. Tu è stato un fratello.